Buongiorno a tutti Oggi giochiamo a Monster Tales Battleland, è un gioco praticamente nuovo e l'andiamo a provare infatti se noi andiamo a vedere ci dice che questo qua è uscito il 29 di maggio quindi da poco tempo è uscito questo gioco e ha una versione molto molto bassa vedete? 0,2 e andiamo a provare questo fantastico gioco ovviamente lo potete scaricare facilmente da Play Store clicchiamo apri andiamo ad aprirlo a posto e vediamo un poco aspettate fatemi abbassare un po' il volume il volume già sta in basso per non essere e giochiamo a questo fantastico praticamente gioco secondo me questo gioco lo porterò per un bel po' di tempo perché comunque è un gioco che davvero mi piace molto ho visto anche alcuni altri video e mi piace davvero tanto allora dobbiamo ovviamente noi siamo abbiamo la squadra abbiamo mi sembra questo mi sembra un drago questo mi sembra un altro drago verde però questo non so chi chi che altro è mi sembra tipo o qua questo già l'abbiamo abbiamo vinto la battaglia apri il cisto e vediamo cosa ci esce non ho la più palle di te raga questo gioco come 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 va cioè andiamo a vedere un po' ah questo gioco è d'energia abbiamo vinto energia però eh vedete si wow è bello questo gioco raga veramente molto ma molto bello possiamo pure aggiornare ovviamente il nostro eh pet diciamo e lo mettiamo ovviamente in campo ok però l'unica cosa che non capisco questo qua come fai poi diciamo il cibo come si come si procura penso lottando vediamo un po' ok ok ma qua ci sta dando ci sta facendo fare un piccolo tutorial ok è vero davvero davvero molto bello questo gioco eh raga mi piace davvero tanto ok vedete qua possiamo utilizzare la skill praticamente urco cane ok ovviamente abbinando va a caricare il cioè l'attacco a secondo di quello che abbiamo per esempio in quel caso per esempio noi abbiamo il viola con il russo si va a caricare solamente il russo perché il viola noi di viola non ne abbiamo i mostri viola ok perfetto vediamo un poco vediamo questo ecco qua e anche questo è fatto ah vedete diciamo sconvincendo ovviamente andando di livello possiamo ottenere vedete il cibo next level e andiamo ad aprire le uova la miseria possiamo usare lo speed e andiamo ad utilizzarlo e ci dà un bel draghetto praticamente bellino che bello e lo possiamo anche mettere nella nostra squadra questo qua praticamente abbiamo abbiamo questo che carino come come pet abbiamo questo bello abbiamo questo sono davvero molto ma molto carini i pet che abbiamo ok andiamo che cos'è qua questo è un altro uova questo è successo ok e lo possiamo anche accarezzare che carino ok e andiamo però avanti ma qua possiamo fare anche lo scontro tra le varie parti fatemi fatemi vedere la cosa ma qua c'è il cibo e andiamo ovviamente avanti andiamo avanti giochiamo possiamo mettere questo ok sta caricando tutta la la potenza ok 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 ha usato la skill speciale lui ok 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 vediamo un poco strong ok ecco questo qua praticamente ha caricato il massimo della skill bella miseria lo ha distrutto lo ha distrutto incredibile ok abbiamo vinto perfetto open chest abbiamo preso il cibo abbiamo preso possiamo anche poi rifare ovviamente il livello ecco ci mancherebbe poi giustamente e non so andiamo avanti possiamo anche un po' aggiornare un po' i nostri i nostri pet però saprei ragazzi se aggiornarli o meno andiamo avanti vedete quanti livelli che ci sono bello sto gioco veramente molto ma molto bello vediamo un poco allora mettiamo player ok ok però voglio capire ma questo ce l'ha in salvataggio no non ce l'ha in salvataggio lo dovranno mettere per salvataggio ok ok questo per esempio questi tipi di giochi qua mi piacciono molto a me poi la grafica come potete vedere è molto ben curata allora ok ci ha fatto la bua questo ok 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 mamma mia abbiamo fatto un disastro mamma mia avete visto che cosa abbiamo fatto mamma mia mamma mia qua possiamo abbiamo caricato il massimo della skill ok oltre possiamo mamma mia che cosa abbiamo combinato raga secondo me li abbiamo ma li abbiamo distrutti a questi si e vai abbiamo completato altri 50 esperienza 328 ok abbiamo abbiamo 16 energie e andiamo ovviamente avanti ovviamente però voglio capire una cosa non riesco poi a capire invece un'altra cosa questi box poi fatemi capire allora come uova poi qua come se fosse praticamente che si carica praticamente non so che dirvi questo non ho non ho più palle di idea come funziona questo play 1 virus play 2 questo sarà questo sarà fatto penso in un secondo secondo momento vedete quanti mondi ci abbiamo qua abbiamo coming soon abbiamo il terzo il terzo stage è molto ma molto bello sto gioco veramente molto ma molto bello fantastico andiamo andiamo invece un po' avanti con il discorso play però possiamo anche un po' aggiornare questi magari al 2 poi magari lo aggiorniamo dai al prossimo lo aggiorniamo un po' dai ok allora perchè vi dice questo ok non abbiamo fatto nulla per la miseria allora ok ok non è molto però ok ok perfetto 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 dai molto bene questo questo mi è piaciuto molto che succede qua mamma mia che combinato miseria ok ok eh perfetto lei sta utilizzando la skill ok usiamo la nostra skill praticamente ok ok perfetto questo questo mi è piaciuto davvero molto ok tutto verde perfetto tutto verde tutto verde ok sì perfetto ok mamma mia qua abbiamo fatto un un tremendo di danni mamma mia a qua l'abbiamo vinti praticamente eh ma abbiamo fatto davvero tantissimi danni eh avete visto quanti danni abbiamo fatto tantissimi 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 ma qua anche qui ne facciamo abbastanza eh l'abbiamo li abbiamo distrutti o questo ciao ora però vediamo un poco la t50 esperienza ok la nostra squadra è bellina dai andiamo avanti però volevo un po' aggiornarlo sinceramente allora qua questa c'è la 2 vediamo questa 100 200 300 vedete aumenta pure l'attacco ovviamente vediamo un po' questo ecco qua si può pure evolvere poi fantastico il gioco veramente è bello 200 300 400 400 vedete c'è tutto a 2 proviamo ad aggiornare anche un po' questo non abbiamo più feed però tra poco abbiamo quasi tutti a livello 2 andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti ma qua secondo me c'è il boss ok 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 allora perfetto si si stiamo andando abbastanza bene qua ok 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 perfetto questo ok 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 sono davvero duri questi questo abbiamo fatto veramente un capolavoro mamma mia che capolavoro che abbiamo fatto qua qua possiamo utilizzare anche la skill di questo a posto e ciao ok ok andiamo avanti fatemi vedere se non riusciamo a aggiornare quell'altro questo qua si a posto perfetto andiamo avanti poi c'è il verde vediamo un poco vediamo un poco allora ah possiamo anche praticamente decidere l'attacco dove deve essere mirato praticamente i verdi con i fuochi cerchiamo di distruggere questo vedete stiamo solo attaccando solo questo questo personaggio qua praticamente possiamo anche decidere quale personaggio ovviamente attaccare eeeh per esempio il verde va bene con il rosso qua con il rosso non c'è nulla no ok 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 C'è salutato Ok 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 Perfetto, perfetto Ecco qua Ok Ok Mamma mia L'abbiamo distrutto E anche questa è fatta E anche questa è fatta Dai Siamo arrivati anche a un livello successivo Ok Max energie incremento di 21 Ok Possiamo Fatemi vedere una cosa Però qua Vedete stiamo completando un po' di uova qua I draghi Qua ognuno C'ha un proprio drago Vedete quanti tipi di draghi si possono sbloccare C'è una miniera praticamente Ognuno c'ha delle caratteristiche proprie Sono belli Sono belli Non c'è che dire Comunque Andiamo Ci abbiamo ancora energia Possiamo fare un'altra Una Possiamo fare abbondantemente un'altra Il push verde Rosso 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 Stiamo 7 su 25 praticamente Andiamo avanti Ok 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 Questo mi è piaciuto moltissimo È abbastanza Abbastanza Ok Ok Rosso Ok Ok Perfetto Ok Questo è stato abbastanza un buon attacco Questo è stato abbastanza un buon attacco E' abbastanza un buon attacco E' abbastanza un buon attacco Stiamo andando abbastanza un buon attacco Stiamo andando abbastanza bene Anche se qui Un casino Sta succedendo con questi qua Ecco qua Questo forse ci Ci da una mano Sì Sì Benissimo Benissimo Questo mi è piaciuto davvero tanto Ecco qua Questo è stato eliminato Abbiamo eliminato parecchi Ok Non voglio perdere nessuno In squadra No 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 Non voglio perdere nessuno In squadra Ecco qua Questo forse si mi piace Questo Si No Forse ho sbagliato qua io Forse ho sbagliato No Non ho sbagliato Raga Non ho sbagliato Forse ce la facciamo Ce l'abbiamo fatta Mamma mia Per un pelo Per un pelo Abbiamo preso tre stelle Mamma mia Incredibile Incredibile Raga Dai raga Ci Per questo primo Praticamente video Vi Comunque vi lascio Ci Sicuramente ci saranno Altre parti di questo fantastico Gioco dal mio punto di vista Alla Alla prossima Quindi Stiamo Dobbiamo fare il livello 8 Vedete 8 su 25 Per completare Ok Perfetto Vediamo un poco come Si evolve la cosa Ok Vi lascio Alla prossima